Lo scontro mortale lungo la 624 Palermo-Sciacca, forse provocato dall'asfalto reso viscido dalla pioggia. Le immagini e le fotografie delle vittime. Ecco la famiglia che è stata sterminata dallo scontro frontale tra due automobili. A sinistra la moglie e madre, Maria Luisa Mergola, che è morta. In braccio il figlioletto, un bambino di due anni, Alberto Titone, che è morto, seduto sul cofano della Ford Focus, il figlio maggiore, Vito Titone, 4 anni, ferito, non in pericolo di vita, ricoverato all'ospedale dei bambini a Palermo. Accanto è il padre e marito, Giovanni Titone, ferito, in coma al trauma center dell'ospedale Villa Sofia a Palermo. La Ford Focus della famiglia Titone, in viaggio da Palermo, dove sono stati per alcune compere, si è scontrata con una Fiat Punto. Lungo la strada statale 624 Palermo-Sciacca, nei pressi dello svincolo per Giacalone, in territorio di Palermo. Un temporale ha reso viscido l'asfalto bagnato dalla pioggia e una delle due automobili avrebbe invaso la carreggiata opposta. I carabinieri della compagnia di Monreale sono stati impegnati nei rilievi di rito. A bordo della Fiat Punto è morta una coppia di anziani di Roccamena, Rosario Lorre, 78 anni, e Maria Ciaccio, 71 anni. Cinque cadaveri tra le lamiere a cartosciate delle due automobili. I vigili del fuoco hanno recuperato i cinque morti. Le ambulanze delle 118 hanno soccorsi due feriti. Ecco ancora le vittime. Maria Luisa Mergola, 25 anni, al mare. E poi altra foto dal ritratto. Poi lei è Rosalia Pilo, 51 anni, morta, madre di Giovanni Titone e quindi suocera di Maria Mergola. E nonna dei bambini, Alberto e Vito Titone. Eccoli, Alberto con la madre. Ed ecco Vito con la madre. Altre due foto della sfortunata coppia originaria di Castelvetrano e residenti a Menfi, Giovanni e Maria. E qui ancora Giovanni, 39 anni di età, e la moglie Maria. La strada 624 tra Palermo e Sciacca è un tracciato mortale. Solo nelle 2013 sono state 12 le vittime, compresi i cinque ultimi morti. La Palermo-Sciacca, definita la strada della liberazione, è stata inaugurata il 29 settembre 1997. In presenza dell'allora presidente della Camera, Luciano Violante. Dalla sua progettazione alla consegna trascorsero 37 anni tra attentati mafiosi, ritardi e inchieste giudiziarie. La strada statale 624 attraversa le province di Palermo, Agrigento e Trapani. Interessa 24 comuni della Valle del Belice e dell'Oiato. E unisce la costa del Tirreno alla costa del Canale di Sicilia.